...e parole fuori dal coro con La mia libertà, la voce di Franco Califano, naturalmente, e questo bel motivo del 1981 che fu anche sigla di Domenica Inn. Di Domenica Inn. Emanuele aggiunge, grazie per aver programmato La mia libertà del maestro Califano, c'è un bel cuoricino con tante note, e tra l'altro Emanuele è autore anche di un libro proprio sul califo, come lo chiamavano simpaticamente, per fortuna e purtroppo è un libro che ha avuto anche un discreto successo. Esatto, allora diamo i risultati finali degli...